No, ma è il stante genti! Ma tu hai fatto un po' di cattolata, ho dato una... ho fatto una, ho fatto una, ho fatto una... Bambini, non ti è fatto! Eh, non ti è capito, non ti è capito! Ma non ti è capito, ma non ti è capito! E' questo che fa il punto, e dice allora... C'è tutto il punto qui, dimmi dove! Questo? No, no, ma tu stoma, tu stoma! E' questo! no 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 no